Grazie a tutti. Un saluto alla platea anche da parte mia, anche a chi ci sta seguendo in streaming e un ringraziamento a Gerardo per questo invito. Oggi sono molto contenta di essere qui presente. Invito subito a raggiungermi Davide Bertilaccio, CEO di Villadesse. Buongiorno, piacere. Grazie Davide, ben trovato. Allora, rompiamo subito il ghiaccio con una domanda semplicissima, che è cos'è il lusso nei servizi? Oggi parliamo di luxury real estate, quindi ci puoi dare qualche indicazione su che cosa significa il lusso nei servizi? Certo, innanzitutto buongiorno a tutti e ringrazio Gerardo per l'invito, anche perché è molto interessante essere qui con voi, poi vi spiegherò perché, ed è stato veramente molto interessante sentire i relatori prima. È una domanda che mi fanno da quando sono nato, che cos'è il lusso nei servizi. Io credo di aver avuto la fortuna nelle mie vite precedenti, col senno di poi, quindi di essere nato nell'hospitality, di aver vissuto diversi gradi di esperienze, di aver visto l'evoluzione del lusso nei servizi. Penso che erroneamente il lusso sia associato all'aspetto materiale, quindi il lusso è qualche cosa di materiale, è un oggetto, è una cosa bella, è un qualche cosa di tangibile. Io penso che negli anni, poi anche a fronte degli incontri fatti con tutti gli ospiti che ho avuto la fortuna di accogliere, il lusso è dettato secondo me molto dalle esperienze. E secondo me le esperienze che io ritengo sempre e chiamo esperienze emozionali, quando le condivido con il team, significa conoscere chi c'è di fronte, significa riuscire a dare esattamente quello che l'ospite che abbiamo di fronte si aspetta. Quindi va al di là dell'oggetto, va al di là della camera bella, va al di là del bagno di marmo, che chiaramente negli alberghi 5 stelle tutti si aspettano, ma cercare proprio di conoscere la persona che ci avete davanti. E questo secondo me oggigiorno è impagabile. Davide, senti, ma quando si parla di lusso, la sfida è la personalizzazione del servizio oppure si riesce anche oggi a dare un elemento di oggettività? Perché molto spesso il concetto di lusso è legato alla personalizzazione, ogni cliente forse vuole essere, avere un servizio personale, come dire, ad hoc per lui. Allora, la parte oggettiva è quello che in inglese si dice un by the way, decidi di andare in un albergo 5 stelle e ci sono delle aspettative. C'è l'albergo bello, abbiamo detto prima, c'è la camera meravigliosa, ci sono i fiori nella stanza, gli arredi di lusso, il bagno di marmo e quindi questo è chiaramente uno se lo aspetta. Però ritornando a quello che dicevo prima, secondo me è molto legato a riuscire ad interpretare la persona o comunque l'ospite che c'è davanti, che è fondamentale perché il concetto di lusso nelle persone varia a seconda di chi avete davanti. Per me può essere avere 5 minuti di tempo da solo senza essere bombardato dalle 360.000 richieste che abbiamo. Poi ricordatevi che nel settore dell'hospitality, riallacciandomi a quello che sentivo prima, quindi le decisioni in un nanosecondo noi le dobbiamo prendere a 360 gradi perché sei con l'ospite, sei con il personale, parli di finanza, parli di tantissime cose e hai veramente pochissimo tempo per reagire. Quindi per me il lusso sono 10 minuti che prendo per me stesso. Per tante persone può essere effettivamente una bella vista, può essere l'esperienza personalizzata, può essere anticipare. L'anticipare, oggigiorno, secondo me è il vero lusso. Penso che nell'hospitality gli sforzi che stanno facendo tutti quanti è quello di sapere in anticipo quelle che sono le aspettative di un ospite e quindi sorprendiamo le persone. Se sorprendiamo le persone creiamo delle esperienze emozionali e queste secondo me sono impagabili, soprattutto in un mondo dove oramai tutti possono avere tutto, tutto può essere comprato. E come riusciamo a mettere al centro il cliente? Che poi è fondamentale, no? È in ogni servizio di mediazione, però maggiormente magari in questo. Beh, ripeto, bisogna guardare e ascoltare molto. Vi faccio un piccolo esempio, anzi due esempi che vivo sempre negli alberghi. Il primo, io lo racconto sempre a mia moglie, lo racconto sempre anche ai colleghi, immaginate di entrare in una camera d'albergo, trovate il solito cesto di frutta, restate qualche giorno di più. Cesti di frutta che oggigiorno sono sempre più elaborati, non so se trovate gli ananas, se riuscite a mangiare vi mettete a sbucciare l'ananas, ve lo tagliate, oppure preferite mangiare una fragola piuttosto che dell'uva. Noi arriviamo addirittura a vedere che cosa si mangia all'interno del cestino di frutta per rimpiazzarlo il giorno dopo e mettere esattamente quello che è stato mangiato. Quindi se vediamo che l'uva è stata presa, togliamo tutto il resto e facciamo un cestino d'uva. Quindi è veramente l'attenzione al dettaglio, è vedere e capire le esigenze dell'ospite. Altro esempio, negli alberghi sapete che vi fanno la cover tour, preparano i letti per la notte. Solitamente questo viene fatto dalla parte del telefono. Io molto spesso, e non per cattiveria, ma lo faccio per capire un attimino il grado di attenzione al dettaglio, dormo dalla parte opposta e cerco di capire se il giorno dopo qualcuno vede e mi fa il letto, ma lo prepara dalla parte dove ho dormito. Queste sono piccolissime cose che cambiano completamente la percezione dell'ospite che viene da voi o che viene da noi nel nostro albergo. Ecco, invece, quale consiglio darebbe agli agenti immobiliari che desiderano interagire con acquirenti e venditori di case di alto standing? Due principalmente. Prima di tutto cercate di conoscere il campo di battaglia, dico sempre. Il campo di battaglia è inteso dovete sapere chi ci avete di fronte, dovete conoscere le abitudini delle persone. Vendere dei servizi, vendere gli immobili, nel vostro caso, senza sapere chi ci avete di fronte, senza sapere che cosa piace, che cosa non piace, quindi a scatola chiusa, è l'errore, penso, peggiore che uno possa fare. Per voi, quindi per il tempo che ci mettete e per una persona che sta a ascoltarvi perché dice cioè o non sono stato chiaro oppure c'è difficoltà di comunicazione. Quindi conoscere l'avversario è fondamentale e per conoscere l'avversario bisogna studiare parecchio. Noi lo facciamo quotidianamente, lo facciamo trovandoci giorni prima, guardando le liste degli arrivi negli alberghi per sapere, facciamo ricerche su Google, postiamo la foto, il personale sa chi è la persona che viene, entriamo nella loro vita se è possibile e cerchiamo di prepararci perché le aspettative, o sorprendere le aspettative, è sempre, secondo me, la cosa che impatta maggiormente. Ma quando il cliente è lì presente, ci sono dei segnali che ci aiutano a capire la percezione che ha? Le guardate, immagino che... Ce ne sono, certamente, certamente. Partire col piede giusto, secondo me, quindi sapere o cercare di sapere il più possibile su chi abbiamo di fronte aiuta moltissimo. Si evitano e si anticipano tantissimi errori che vengono commessi nel mondo degli alberghi. Quindi la proattività. Secondo consiglio che posso dare a tutti, perché io l'ho sempre messa nella mia vita, è la passione. Fate le cose con passione. Cioè, senza la passione non si arriva da nessuna parte. La persona che vi ascolta si accorge subito se c'è passione in quello che fate, se c'è trasporto, se c'è veramente la voglia di fare qualche cosa, oppure se è una fredda transazione. Questo io lo ripeto quotidianamente ai miei team. Un check-in e un check-out in un albergo, fatto check-in, check-out, è una cosa. Un ultimo check-out, che poi è la parte più brutta, perché quando uno deve pagare il conto, quindi è anche un momento per l'ultanza delicato, fatto in un certo modo rimane per sempre. Si pensa sempre alle persone, non all'oggetto. Io lavoro e sono cresciuto in un mondo di persone, quindi per me è insostituibile, imprescindibile. Anche nei momenti sbagliati, nei momenti più brutti, è sempre una questione di rapporto. Quindi come ci si comporta con le persone è fondamentale. Gli errori vengono perdonati. E poi si viene ricordati per le persone. Torno in un posto per le persone. Faccio qualche cosa per le persone. Magari non mi piace, ma torno per le persone. Quindi siamo noi che lasciamo il ricordo finale. Ecco, un'ultima domanda. Prima si parlava anche di... Immagino che in questo settore ci si raffronti anche con una clientela molto più internazionale. In quel caso le esigenze quali sono? Sono diverse? Cioè, immagino che ogni cliente sia comunque diverso, ma anche per la sua storia, provenienza, cultura. Ecco, in questo caso come relazionarsi, come approcciarsi, che suggerimento si può dare anche? Dico sempre che potrei scrivere un libro nei 34 anni di esperienze negli alberghi in cinque continenti. Poi me le dimentico, perché ogni giorno ce n'è sempre una nuova. Quindi non faccio tempo a pensare a quello che ho appena vissuto, che mi succede qualche cosa di nuovo. Ed è il bello, credo, della mia professione. Ogni persona viene affrontata in maniera diversa. Prima abbiamo parlato che cos'è il lusso nei servizi. Ci sono le persone che ancora associano il lusso al materialismo, quindi al gesto, all'offerta legata al puro materialismo. E ci sono persone, tra cui tantissime celebrities, con cui ho avuto il modo di confrontarmi, che hanno un approccio del lusso e della vita negli alberghi, in questo caso completamente diverso, da come uno potrebbe immaginarselo. Il tempo libero, il fatto di essere da soli, godere della propria privacy, non essere disturbati, per loro è il vero lusso. Poi ci sono le persone, a volte sconosciute, chiamiamole sconosciute, che sono le persone più esigenti. Quindi le più difficili da trattare. Forse perché sono le esperienze one-off, come le definiamo noi. Mi tolgo lo sfizio, mi vivo un weekend in un ambiente di lusso, faccio nero il personale, lo faccio correre il più possibile, perché tanto lo posso fare una sola volta. Le persone, gli ospiti abituati a questo tenore di vita hanno sempre molte meno aspettative dal punto di vista offerta di servizio, ma pesano moltissimo l'aspetto privacy, l'aspetto relax, l'aspetto sono invisibile. Secondo me, soprattutto poi quando viaggiano con le famiglie, quindi ci sono i figli di mezzo, prima si parlava di Elon Musk, che ho avuto il piacere di avere anche come ospite, però potrei elencarve in tutti questi anni le persone che ho avuto. Quindi sono le persone inesistenti, invisibili, non li vedete negli alberghi. E poi il bello, e la parte forse per noi un po' più difficile, è quella di renderli invisibili, cioè fare in modo che le persone sedute in fianco non si accorgano che... Quindi c'è ancora l'idea, il concetto che lusso a volte è sinonimo anche di privacy, di totale privacy, di non voler essere in un mondo, diciamo, iperconnesso, social e altro. C'è ancora questa idea del lusso come... Secondo me è questo. Come essere... come dire, non lasciarsi vedere, non farsi vedere. Secondo me a quei livelli è questo e il tempo libero, il vero lusso è il tempo libero. Cioè nel mondo degli alberghi chi viene sicuramente è per farsi coccolare, ma è proprio per staccare la spina, per spegnere il telefono, per godersi quel minimo di tempo libero che possono avere. Ripeto, molto più difficile è quando queste persone viaggiano con le famiglie, perché è un momento all'anno che si prendono, quindi noi abbiamo la responsabilità di assicurarci che vada tutto bene. Diciamo sempre, quando la moglie e i figli sono contenti, siamo tutti contenti poi alla fine, penso che sia un concetto che vale per tutti quanti. Quindi ecco, ci assicuriamo che vada tutto per il meglio. E queste secondo me sono quelle esperienze che poi fanno dire, però vedi come lavorano queste. Quindi direi molto più esperienze emozionali che esperienze o comunque il mero lusso di servizi materialista. Quindi ancora una volta premia l'emozione, cioè il rendere un'esperienza indimenticabile. Abbiamo sempre pensato che la casa è sempre un po' l'idea, è un sogno. Spesso quando io mi sono confrontata con molti agenti dicevano si vede quando una persona vuole acquistare una casa perché quando entra un po' la sente sua, senti che realizza un sogno. E anche in questo caso mi sembra di capire che anche nel lusso si cerca di soddisfare al meglio quello che può essere il sogno del cliente che ci si trova di fronte. Si dice sempre la casa lontano da casa, va in un albergo, quindi noi dobbiamo interpretare le esigenze di tutti voi, immaginate, quindi cercare di conoscervi e cercare di trasformare la vostra esperienza in un albergo freddo, etereo, come volete chiamarlo, come a casa, vi sentite dire. Cioè cercare di trasformare questa esperienza in qualche cosa che non sia... Poi soprattutto per la gente che viaggia moltissimo. Io c'è stato un periodo che vivevo negli aeroporti praticamente e mi ricordo che a causa del fuso orario mi svegliavo la notte, dovevo leggere sulla sveglia dell'albergo dove ero perché sei sballottato a destra e a sinistra, non sai dove ti trovi, quindi dici caspita, sono qui. Perché vivevo questa esperienza veramente poco... Cioè era un check-in, un check-out, un semplice utilizzo dell'albergo come punto per riposarmi, farmi la doccia, vestirmi e andare via. Tanti posti cercano di evitarti questo stress. Noi lavoriamo per evitare che sia uno stress arrivare in un albergo. Quindi disfiamo le valigie, che è uno stress immagino per tutti quanti, quindi mandiamo le persone, disfiamo le valigie, cosa che a me personalmente non fare mai fare. rifacciamo le valigie, cioè tutto deve essere legato a evitare lo stress di essere in un posto nuovo e di farti godere l'esperienza piena. Va bene, allora ringraziamo Davide Bertilaccio, CEO di Villades, che ci ha dato molti suggerimenti trasversalmente. Grazie Davide, io gli farei un doppio applauso perché ha incontrato Elon Musk e non ne ha ritwittato niente sulla sua attività, quindi lei questo se lo deve appendere, proprio una medaglia da appendersi al petto, perché con quello là può succedere di tutto, con un tweet, una riga può demolire la reputazione. Aveva una bella sicurezza, devo dire che anzi era proprio contro farsi fare delle foto, ma chiaramente noi cerchiamo di tutelare la privacy delle persone. Senta, abbiamo ancora un minutino di tempo prima della prossima conferenza, ma può anche rimanere in piedi, intanto grazie a Marcella che peraltro adesso andrà ad animare le talk room. Abbiamo prima disegnato venti di recessione in arrivo per l'anno prossimo e diciamo che il mondo del lusso generalmente viene considerato un po' il comparto che non conosce mai crisi. In realtà nel turismo, anche con la pandemia, abbiamo visto con il congelamento simultaneo dell'economia del mondo nel 2020, anche per voi sono arrivati momenti complicati, da quali poi tutto il settore è ripartito. Per il prossimo bienio che segnali vedete? Siete un test importante, voi riuscite ad intercettare per quello che riguarda il vostro mercato momenti problematici oppure tutto sformato riuscite a surfare proprio in virtù del tipo di mondo che rappresentate? Domanda nel momento giusto perché adesso finirò qua, scappo, ritorno a Cernobbio perché stiamo lavorando sui budget, budget questi sconosciuti, come avere una sfera di cristallo e prepararsi al consiglio di amministrazione. Allora tendenzialmente io vado, sì, studio gli indicatori, cerco di capire nei mercati che chiaramente sono l'origine della nostra esistenza, quindi mercato americano, nordamericano. I nordamericani in Italia sapete che contribuiscono sopra il 40%, 44%, 45% a livello nazionale. Quindi senza i nordamericani l'Italia turistica cade sempre in ginocchio. Negli anni abbiamo cercato di diversificare l'offerta, cercare dei mercati paralleli che ci potessero aiutare. il meglio che siamo riusciti a fare forse sono i neighboring countries, come li chiamiamo noi, quindi l'Inghilterra, la Svizzera, c'è tutti i paesi che possono raggiungere l'Italia in macchina, ma arriviamo al 10% e siamo già fortunati. Devo dire che si prospetta una recessione economica negli Stati Uniti, questo ne stanno parlando tutti quanti, si dice che il primo quarter del 2023 ci sarà questa eruzione che creerà chiaramente non poco disagio. Nel mondo del lusso, quindi parliamo di noi, siamo fortunati perché, l'ho appena detto, cioè il lusso sembra che non muoia mai. Si dice sempre che chi ha denaro da spendere, chi ha denaro da investire, lo fa, continua a farlo. Noi l'abbiamo visto quest'anno, 2021, post pandemia, io parlo di Villa d'Este, amministro quattro alberghi, più abbiamo questo progetto di espansione, tra l'altro se avete degli immobili in città d'arte, fatevi vivi perché stiamo cercando, quindi questo è un momento giusto per fare la ricerca. Io sono la madrina di tutto questo deal, ve lo dico. Noi abbiamo avuto un incremento quasi del 40% sul 2019, che è stato un anno d'oro per Villa d'Este, è stato l'anno proprio dei record. Quindi post pandemia la gente con il denaro ha avuto voglia di spendere, ha voglia di spendere e quest'anno siamo stati veramente sommersi dalle richieste, al punto tale che se avesse avuto doppio inventario lo avremmo utilizzato. Quindi non c'è stata resistenza al prezzo, quindi avremmo potuto, e solo la nostra trasparenza e coerenza, che non ci ha fatto triplicare i prezzi degli alberghi, come hanno fatto in tanti poi tra l'altro, ma credo che pagheranno le conseguenze più in là, bisogna restare coerenti, ma potevamo vendere a qualsiasi prezzo, e c'è nessuno, ma mi date uno sconto, posso avere, posso invece, questo non è successo. Quindi io credo sì, ci saranno momenti difficili, penso che gennaio, febbraio, marzo, forse anche fino alla metà del secondo quarter, ci saranno dei tremori, però mi piace restare positivo. Poi dopo tutto, dopo due anni di Covid che ha preso noi nell'hospitality, che sono stati momenti veramente super difficili dal punto di vista retenzione del personale, abbiamo fatto di tutto per trattenerlo, abbiamo fatto di tutto per aiutare le persone, ringrazio le varie proprietà con cui ho lavorato, che a differenza di aprire le porte e lasciare tutti quanti a casa, hanno comunque contribuito e hanno mantenuto tutto il personale, però voglio essere positivo, bisogna essere positivi. Guardi, se abbiamo scampato questi ultimi due anni, che cosa ci deve spaventare ancora? Non lo so. Comunque, grazie per la vostra attività, perché se li trattate bene voi, poi comprano con loro e quindi è tutta una circolazione di risorse finanziarie che non può che far bene a questo paese. Grazie. Grazie. Grazie mille.